Grazie a tutti. Spero che ci possano essere altre occasioni con voi, con il pubblico, parlare di quello che avete visto, magari ad agosto, non lo so, potremmo organizzare un incontro post-filma. Questa è una storia, è un film per me importantissimo, non solo per me, per tutti quelli che ci hanno lavorato e la storia di La Garofalo. L'abbiamo fatto con enorme amore e enorme rispetto, credo che Marco Tullio abbia composto un film e un cast degno di questa storia. L'abbiamo fatto con molta umiltà e con molto rispetto. Mi dispiace a non essere lì davvero e buona visione. Ciao.